Abbiamo bloccato, stoppato Mr. Giordani, ho fatto i complimenti a microfoni spenti e glieli confermo pubblicamente perché non era facile giocare contro questo Chiedi e il Chiedi si è accorto che il capistrello non solo sotto l'aspetto tecnico e tattico ma anche sotto l'aspetto caratteriale ha ancora tanto da dare, Mr. Sì, siamo riusciti a rimanere in partita fino all'85, fino al 2-0, nonostante non avessimo fatto una delle migliori partite. Nelle altre tre eravamo riusciti a uscire col palleggio, oggi ce lo hanno negato, ce lo hanno tolto e quella era un po' la nostra forza. Quindi complimenti a loro che naturalmente sono organizzatissimi lì in mezzo e è stato importante rimanere in partita. Con le proche frecce che avevamo ce le siamo sparate, abbiamo rischiato l'1-1 quindi poi sarebbe stata naturalmente un'altra partita. Però oggi un po' sotto tono, pagando naturalmente pure lo sforzo di mercoledì senza nessun cambio di squadra, abbiamo giocato con la stessa squadra quindi un po' abbiamo pagato pure quello. Però complimenti a loro, ho detto che organizzatissimi in mezzo e che ci hanno veramente tolto qualsiasi possibilità di palleggio. La prestazione poi sulla parata di Forti poteva cambiare il match, però adesso le chiedo una domanda che forse vorrebbero farle tanti telespettatori. Le ha incontrate entrambe nell'arco di pochi giorni, quella che l'ha impressionata di più senza togliere nulla all'altro ovviamente. No, sono due grandi squadre, quello a prescindere quindi è normale che se la giocheranno fino all'ultima giornata e quindi vorrei solo, ecco, diciamo che mi ha impressionato il centrocampo del Chiedi. Dico solo questo, per il resto sono due squadre attrezzate, due squadre organizzate, due squadre di professionisti che stanno qui per caso, che sicuramente alla fine saliranno tutte e due. Me lo auguro per loro perché è giusto che sia così e solo questo mi ha impressionato il centrocampo del Chiedi sia nell'organizzazione sia nella qualità dei singoli. Perfetto, grazie a mister Giordani che ovviamente liberiamo perché a differenza di Lucarelli deve attraversare l'Abruzzo e tornare a casa. In bocca al lupo mister e complimenti ai suoi perché davvero non solo non l'avete sfigurato ma spesso e volentieri avete dimostrato che in questa categoria potete dare fastidio a tutti. Sì, questo lo giro ai ragazzi, naturalmente il grazie perché sono loro poi che danno tutto. Ripeto per l'ennesima volta la distinta la vedete tutti e noi praticamente su 20 in squadra siamo in 14 under quindi è quello poi il nostro obiettivo. Pure oggi hanno giocato tantissimi 2003, un 2002, tre 2000, tanti 99 quindi l'obiettivo è quello di presentarci a luglio pronti per dar battaglia a chiunque come abbiamo dimostrato in questo mini torneo.